ciao a tutti oggi vi presentiamo questo pirografo si tratta del brand Peter junior è un pirografo di produzione tedesca col quale io lavoro e mi trovo molto bene vediamo la regolazione della temperatura da circa 250 a oltre 750 gradi le punte sono punte a filo ora vediamo come si cambiano semplicemente si svitano due piccole vitine sulla parte superiore ed ecco fatto si sostituisce la punta conviene sempre farlo a punta fredda o nel caso sia necessario cambiare la punta quando ancora calda utilizzare una pinza ma con questo pirografo la punta si scalda immediatamente e altrettanto si raffredda subito vediamo anche l'impugnatura protetta con il sughero qui si vedono le punte in dotazione quattro punte in dotazione queste invece sono punte calligrafiche che si possono acquistare a parte e poi ci sono delle punte con varie forme particolari per fare delle decorazioni e anche queste si possono acquistare successivamente è un ottimo strumento consigliato vivamente col quale si possono fare tante piccole cose come si vedono qui si può lavorare su tutti i tipi di legno qui vediamo sia del compensato ma anche lavori fatti su tiglio su abete se volete saperne di più è uscito anche il mio libro la tecnica della pirografia che potrete acquistare sia sul nostro sito sia nei migliori bookshop se vi interessa acquistare un pirografo brand peter oppure le punte potete visitare il nostro sito elettronicadidattica.com grazie a tutti vi aspettiamo sul nostro canale a presto